Ciao a tutti, oggi c'è stata la prima giornata, abbiamo fatto due turni di prove libere da tre ore dove abbiamo guidato sia io che Luca che Uccio, siamo molto contenti, è andata bene, stamattina abbiamo fatto il terzo tempo di giorno, di notte invece il quarto tempo, ci sono tanti piloti che vanno forti, però anche noi siamo piuttosto veloci e dobbiamo lavorare un po' sul passo perché gli stinti saranno molto lunghi da più di un'ora quindi dobbiamo cercare di migliorare il balance della macchina per rimanere costanti per tutti i giri però è bello, la pista è bella, non l'avevamo mai vista, però ci siamo trovati tutti bene e quindi siamo contenti Allora è stata una giornata positiva, abbiamo girato molto oggi, abbiamo cercato il giusto setup della macchina perché la pista aveva molto poco grip, poca adderenza sul posteriore soprattutto quindi siamo stati alla ricerca del grip per tutta la giornata alla fine penso che abbiamo trovato un buon compromesso quando abbiamo provato tutti e tre il time attack i tempi sono stati positivi Vale e Uccio hanno fatto anche dei long run per vedere come la macchina, l'usura delle gomme con il carico di benzina, come lavora la macchina, domani lo farò anche io quindi direi che siamo contenti di questo primo giorno, c'è ancora da lavorare e vediamo di migliorarci domani Ciao a tutti, oggi primo giorno direi molto molto positivo, sono contento abbiamo cercato di lavorare sia di giorno che di notte per cercare il migliore setting della macchina non siamo troppo lontani, anche se qualcosa ancora ci manca, soprattutto sul posteriore scivola un po' molto, però dai, ci siamo divertiti, abbiamo fatto anche i run lunghi ho fatto un run di 45 minuti anche per vedere come sto fisicamente perché vi assicuro che non è facile e niente dai, speriamo di continuare così, di lavorare così, domani fare una bella qualifica e partiremo prima di cercare la gara Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti